Buongiorno, in questo periodo di quarantena con la professoressa Kamkaji abbiamo svolto delle attività che ci hanno aiutati a consolidare gli argomenti trattati in maniera creativa e personale. Questa attività rientra in un progetto più ampio che si chiama la mia biografia a fumetti in cui ognuno di noi mette in pratica le proprie conoscenze linguistiche raccontando la propria quotidianità, descrivendo la propria famiglia, le persone che ci circondano e i personaggi famosi che più ci piacciono. Adesso vi faremo vedere qualche esempio. Angelina Jolie è bella, è grande e mince, ha le chevei chattoli, ondulati e lungi, ha le yeux verti e le visage ovale. Elle porta un top blanque in sua, un vesto blanche, un pantalon noir e des escarpins noirs. Ecco qui un altro esempio, qui invece parliamo di Giulia Roberts. Giulia Roberts è un'attrice tre celebre che j'aime beaucoup. Elle è grande e mince. Tutte queste attività che vi abbiamo fatto vedere rientrano appunto in questo grande progetto a fumetti che stiamo portando avanti e come potete vedere queste qui sono le prime pagine di quello che diventerà un libricino con tutte le cose che abbiamo studiato appunto a fumetti. Nonostante questa situazione difficile, come potete vedere, le lingue continuano e anche lo studio.